sia lodato gesù cristo prima di iniziare il video ricordo che ho preparato quest'area troverai qui sotto in descrizione il link dove poter accedere a tutti i miei libri visto che ci troviamo nella fine dei tempi ho preparato questi questi libri forse non ce ne saranno altri con le informazioni più importanti che ci servono per la salvezza e per essere poi strumenti di dio nei momenti difficili che stanno per arrivare quindi ti ricordo che qui sotto troverai il link per accedere a questi libri e quello più importante ovviamente questo qui ci clicchiamo e il manuale di sopravvivenza della fine dei tempi un abbraccio dio ti benedica e se ti va lascia un commento e un like al video sia lodato gesù cristo nel cuore immacolato di maria benvenuti fratelli e sorelle in questo messaggio di nostro signore gesù cristo all'uzione maria dell'11 avrile 2024 come sempre richiamiamo in noi lo spirito santo a leggere e meditare questo messaggio sempre nella speranza che tutti coloro che sono nella vigna del signore e che leggono e diffondono tutti i vari messaggi del cielo possono prendere l'esempio di commentarli spiegarli e non solo leggerli allora richiamiamo in noi lo spirito santo affinché possa donarci la comprensione della lettura è una breve è una breve spiegazione per la gloria di nostro signore gesù cristo miei amati figli io vi amo figli diamo bene amati ricevete la mia benedizione la mia misericordia aperta tutti voi ho aperto la mia misericordia venite a godere di questa fonte di amore e di perdono giovanni 4 13 14 la mia madre santissima come madre maestra vi guiderà e vi tirerà fuori dall'oscurità nella quale alcuni dei miei figli si sono immersi figli miei la mia misericordia è infinita come infinito l'amore della nostra trinità vi offro le mie mani i miei piedi il mio costato ferito il mio amore vi chiama figli il mio amore vi mostra la necessità di unirvi a me per salvare l'anima accrescete la fede bevete del mio amore così nutrirete la fede è importante per voi che la fede sia salda e forte così che riusciate a continuare a sopportare quello che gli elementi e gli uomini causeranno all'umanità amati miei gli elementi continueranno a flagellare tutta l'umanità come purificazione per gli uomini i fenomeni naturali non si attuneranno aumenteranno grandemente a causa della stoltezza degli uomini senza confondervi figli miei sul fatto che la mia misericordia sia aperta a ciascuno di voi e che quindi la purificazione per l'umanità verrà sospesa proseguite nel processo di conversione essendo fedeli ogni momento senza venire meno in questo momento l'acqua dei mari pericolosa perché ci saranno grandi terremoti nel mare e le onde di grandi dimensioni si addentreranno con forza sulla terra l'uomo incline all'odio e nel suo desiderio di vendetta inizierà a tenere direttamente sulle spine tutta l'umanità le armi che la stragrande maggioranza delle nazioni non conosce e che una nazione dell'oriente ha creato in segreto usciranno allo scoperto da un momento all'altro colpendo con il loro potere distruttivo le nazioni che possiedono armi nucleari figli miei non stupitevi che l'intelligenza umana venga usata per causare una grande tragedia nell'umanità ogni nazione rivelerà l'abuso della tecnologia malimpiegata nella sua massima espressione la storia di questa generazione dei prove deplorevole la durezza del suo cuore non ha paragoni io vi chiedo di essere amore invece voi mi flagellate continuamente non desiderando essere fraterni ma unicamente di dimostrare di poter sconfiggere il fratello e se necessario anche di ucciderlo il rancore un cattivo consigliere vi acceca vi annebbia totalmente il pensiero e in quelle condizioni l'uomo è preda del disamore e della mancanza di rispetto verso il fratello il preda dell'avidità e del disprezzo nei confronti dei suoi simili io non vivo negli uomini con il cuore di pietra perché costoro hanno una lieve infarinatura delle mie leggi che non rispettano e dei miei comandamenti ai quali non obbediranno questo atteggiamento non è degno di coloro che si fanno chiamare miei figli io verrò con la mia giustizia che non cesserà di avere in sé la mia misericordia altrimenti meritereste talmente tanto castigo che dovrei accelerare ogni avvenimento ogni rivelazione pregate figli miei pregate una polvere giallastra e l'arma è tale che possiede una grande nazione e causerà moltissime morti versata sul campo di battaglia pregate figli miei pregati la malattia si diffonderà e si arriverà nuovamente rapidamente a chiudere le frontiere pregate figli miei pregate il medio oriente e il focolaio della guerra i miei figli non si aspettano tanta prudeltà pregate il paese del nord l'usa sarà fortemente scosso pregate il cile tremerà la bolivia sarà scossa pregate la francia sarà motivo di attenzione e di grande dolore pregate figli miei pregate la mia chiesa soffrirà pregate l'azione del sole impedirà allegro all'agricoltura di provvedere ai miei figli miei amati figli le date degli eventi sono più vicine a voi di quanto crediate preparate il vostro organismo già adesso assumete vitamine e minerali rafforzate il vostro sistema immunitario ma con precauzione voi siete amati da me perciò non permetterò che dobbiate trovarvi ad affrontare tali grandi eventi pregate il credo quando siete soli la malattia sta per giungere all'umanità usate l'olio del buon samaritano la mia benedizione vi invita a considerare i cambiamenti che avverranno nel comportamento umano e in tutta l'umanità saranno drastici voi siete con me e la mia protezione non vi abbandonerà affrontate senza paura i cambiamenti necessari perché l'uomo si salvi il cuore di carne perché riesca a sopravvivere per poter compiere la sua trasformazione deve immergersi nelle acque profonde del mio amore altrimenti rischia di cadere nelle grinfie di satana prestate attenzione figli miei vi trovate nella fase di realizzazione di quanto è stato annunciato rafforzatevi spiritualmente vi benedico il mio amore infinito per per chi desidera bene da questa sorgente inesauribile il vostro gesù ave maria purissima concepita senza peccato ave maria purissima concepita senza peccato ave maria purissima concepita senza peccato commento di luz e de maria fratelli nostro signore ci invita a riflettere su come si diventa migliori creatore di dio mantenendo un cuore di carne non di pietra che non sa amare i propri fratelli e nemmeno se stesso ci viene detto molto chiaramente che ci troviamo nella fase di sviluppo di tutto ciò che è stato profetizzato quando succederà tutto ciò che già sappiamo riguardo alla guerra malattie al controllo alla penuria ai fragelli della natura degli elementi contro l'umanità così come gli oltraggi nei confronti del nostro signore e il nostro dio della nostra madre santissima nostro signore ci riporta la mente i messaggi degli anni precedenti perché meditiamo nostro signore gesù cristo 2010 forse non ho avvisato nel corso della storia dell'umanità quando il peccato ha fatto traboccare la coppa e lo stesso uomo ha tirato su di sé la purificazione questo tempo non è diverso non è differente il peccato ha fatto traboccare la coppa e la purificazione è urgente e imminente amato popolo mio tanto peccato è stato versato e viene versato sulla mia creazione la quale mi ha già supplicato di potersi purificare e io l'ho ascoltata così e prestiate attenzione la mia parola non sono un padre senza misericordia e la mia misericordia che desidera riscattare il maggior numero dei miei figli quelli che aderito alla richiesta di tutta la creazione che vuole tornare a me e conseguire lo scopo per il quale venne creata miei amatissimi la purificazione imminente gli avventi che voi già conoscete si succederanno uno dopo l'altro non negate la mia parola facendovi scudo del mio amore perché nonostante io non castighi e sia amore non desidero che il mio popolo continui nella perdizione immerso nel peccato senza pentirsi nostro signore gesù cristo 2010 figli non continuate ad essere prigionieri del nemico dell'anima l'umanità vive dominata dallo spirito di perversione questa quota così elevata di peccato ricade sulla terra che trema in nelle sue viscere nell'incessante ricerca di ritrovarsi in sintomia con me le profezie sono confluite sull'umanità in questa generazione che chiede di essere purificata la vergine maria 2015 la santissima vergine maria 2015 giungerà una malattia misteriosa che attaccherà il sistema nervoso figli miei rimanete fedeli e abbiate fede mio figlio e nell'aiuto di questa madre ponetevi sotto il mio manto materno e abbiate la certezza che non sarete mai abbandonati da me vostra madre nostro signore gesù cristo 2009 il grande conflitto la terza guerra mondiale e alle porte così come israele iniziò l'alleanza ora per mezzo dei conflitti in israele avrà luogo la scintilla della grande guerra amen sia lodato gesù cristo nel cuore immacolato di maria che messaggio allora dobbiamo imparare come gesù ci ha detto in questo messaggio quando ci troviamo da soli dobbiamo recitare il credo perché nel credo ci sono e contenuta la rivelazione di tutte le cose che dovranno accadere e nel credo c'è la speranza più grande che recitiamo la fine e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e morti il suo regno non avrà fine ora ci sono una moltitudine di mistici maria valtorta e tanti altri mistici che hanno profetizzato il regno della pace che verrà e durerà mille anni però il credo ci insegna che dio è stanco del peccato e può cancellare le profezie può cancellare i castighi può cambiare a suo piacimento i disegni ma il credo ci dice che il regno di dio che verrà attraverso la seconda venuta non avrà fine e non durerà mille anni non durerà un milione di anni non avrà fine questo regno infatti che gesù porterà sulla terra il regno di pace sarà un regno di amore infinito dove finalmente vivremo nella divina volontà rivelata luisa pigarretta e dove la terra finalmente sarà un pianeta simile ai pianeti che popolano il paradiso dove ci sono i nostri cari che noi richiamo che non chiamiamo defunti che vivono in questa infinita volontà e felicità della santissima trinità ora ci troviamo in questa linea di eventi già negli scorsi anni il cielo attraverso l'os de maria ci aveva annunciato che la scintilla della terza guerra mondiale scoprirà nei baltici e siamo siamo vicini a questa scintilla non possiamo dire che mancano degli anni possiamo dire che siamo quasi stiamo quasi sfiorando questa scintilla questa scintilla che scoprirà attraverso questa guerra che passerà dalla minaccia alle azioni questa guerra che riguarda che riguarda tutto l'oriente il medio oriente quindi non solo non solo e soltanto la russia che ha preso posizione sull'ucraina ma anche tutti i paesi che sono sotto la russia senza dimenticare anche alcuni dei paesi come la turchia la grecia che non perderanno tempo anche loro ad attaccarsi perché il conflitto si estenderà e ci sono anche altri mistici che sono chiamati in causa come il fondatore harry dell'ordine di maria di francia questo mistico meraviglioso come lo è lo stesso mistico giocarei marco taddeo sono tutti mistici di ordini diversi dove al centro di questo disegno c'è la santissima vergine maria che che ci porterà nella nel nuovo regno di pace attraverso il trionfo del suo cuore macolato che è la seconda venuta di gesù gesù in questo messaggio ci chiama come in tutti i messaggi delle varie apparizioni sulla terra alla conversione per questo se volete seguire questo canale youtube sto preparando e sto già pubblicando gli scritti attraverso le letture di maria latest attraverso questo libro che vi faccio vedere attraverso questo libro che non è mio ovviamente però è un libro meraviglioso sono quindici libri in uno in questo periodo ho già finito di pubblicare tutti i video che sono in programmazione uno ogni giorno del quattordicesimo libro dedicato alle relazioni tra l'uomo e dio tra l'uomo e gli angeli e tra l'uomo e la donna in questo in questi tre attivi di relazione gesù insegna maria latest e come possiamo imitarlo perfettamente come possiamo imitare noi peccatori figli di dio come possiamo imitare il nostro signore gesù cristo nelle relazioni sia con dio che con gli angeli con i nostri angeli custodi con le sante legioni di san michael arcangelo insieme poi alle relazioni del mondo e questo ci dà un grande vantaggio perché attraverso queste rivelazioni attraverso questi iscritti e questi insegnamenti possiamo imitare perfettamente nostro signore gesù cristo per avere un surplus di santità nel nostro cammino di conversione sulla terra è necessario quindi in questo cammino di conversione e imitare gesù attraverso l'insegnamento dei santi dei mistici per essere protetti dalle sue sante legioni angeliche nel cuore immacolato di maria dagli arcangeli sia dal anticristo che dalla giustizia divina che dalle catastrofi naturali nostro signore gesù cristo ci ha parlato in questo momento della tecnologia che hanno a disposizione alcune nazioni del medio oriente e che useranno per attaccare altre nazioni ci ha parlato di queste nuove malattie che sono le porte quindi dobbiamo alzare il nostro sistema immunitario attraverso il libro delle piante che troverete in descrizione questi sono libricini e ho creato dove ci sono le rivelazioni di alcuni mistici con tutte le piante con tutte le ricette in modo che possiamo essere preparati attraverso le disposizioni del cielo in modo tale che noi non possiamo dire non lo sapevo lo sappiamo e sapendolo ci dobbiamo preparare attraverso prima di tutto la fede e poi mettendo in pratica le disposizioni celesti per essere protetti dal cielo quindi attraverso questo libro come tutti gli altri libri che troverete in descrizione abbiamo una fonte di informazione che ci servirà nel momento in cui la guerra si espanderà e non avremo internet non avremo la possibilità poi di scaricare di uscire di andare a stampare ed ecco la necessità di avere in formato cartaceo e non in formato pdf digitale perché non avere internet vuol dire anche non avere elettricità e quindi non potremo accendere i cellulari computer per un periodo e in quel periodo dobbiamo essere pronti anche con i libri cartacei con le preghiere con la fede a pregare in modo incessante per essere protetti dalla santissima traità durante questa autopunizione che l'uomo si sta infliggendo e si leggerà con la terza guerra mondiale che verrà fermata dalla santissima trinità perché la punizione doppia è una autopunizione che l'uomo si infligge con la terza guerra mondiale e poi c'è la punizione quella divina ci saranno i castigli di divini che inizieranno e proseguiranno anche con i dieci segreti di meggiugori che come la stessa vergine maria ci ha detto a meggiugori i segreti distruggeranno satana e il suo regno satana il suo regno sono tutta la terra e quindi le nazioni dovranno subire questa grande purificazione affinché il popolo dio il popolo di dio sia protetto durante questa grande tempesta che noi stiamo vedendo la televisione attraverso la guerra quindi tutti noi saremo protetti noi che preghiamo noi anime vittime le anime per le quali preghiamo quindi dobbiamo pregare in modo incessante dobbiamo pregare tutti i giorni il santo rosario ci dobbiamo confessare dobbiamo andare a messa e dobbiamo essere delle piccole anime vittime per la santissima trinità per cui impegniamoci anche tutti i giorni a recitare il credo a pregare per i bambini abortiti a pregare per i potenti a pregare per i cattivi a pregare per il papa impegniamoci a fare conoscere questi messaggi io vi lascio e ci immergeremo in un'altra riflessione su questo e altri video vi lascio con un video dove recito il credo mentre sono sul balcone e questo video lo lo farò uscire subito dopo subito dopo questo perché un pochino è un po un po lunghino e quindi in questo video testimonio chi sono i nostri angeli custodi chi sono queste legioni di san michel arcangelo i segni che ci danno e come anche noi possiamo invocarle affinché ci possono proteggere in questa terza guerra mondiale in questa purificazione della natura dai castigli divini dall'anticristo dalle malattie affinché diventano nostri amici i nostri compagni di cammino e attraverso i quali possiamo amare sempre di più la santissima trinità sia lodato gesù cristo nel cuore immacolato di maria a 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